Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi. Io sono Alessandro, sono un videomaker e fotografo e quest'oggi sul mio canale parliamo di audio. Realizzo questo video principalmente perché nel mio vecchio video sullo Zoom H1n che sto utilizzando in questo momento e nei video test con lo Zoom H1n e i vari microfoni che vi ho portato sul mio canale, alcuni di voi mi hanno chiesto di realizzare un video sulla pulizia dell'audio e sul miglioramento dei propri voiceover sfruttando Adobe Premiere Pro o Adobe Audition, o entrambi. Bene, quindi in questo video andrò ad elencarvi i modi migliori per eseguire una pulizia e un miglioramento del vostro voiceover di base, abbastanza elementare, quindi i trucchetti un po' più veloci, più rapidi e soprattutto di livello più basso e accessibili un po' a tutti, anche a chi ha poche conoscenze del mondo audio. Infatti sono i trucchettini che ho imparato per primi. In questo periodo sto studiando tantissimo il mondo della produzione audio, piuttosto che il mondo della produzione video sto cercando di migliorare da quel punto di vista giorno dopo giorno e queste cosettine che sto per elencarvi sono le prime in assoluto che ho imparato su questo meraviglioso mondo, sul mondo dell'editing audio. Questo video sarà diviso in due sezioni. Nella prima parte parleremo di come andare a migliorare il proprio voiceover sfruttando Adobe Premiere Pro e i suoi meravigliosi preset, nella seconda parte invece sfrutteremo Adobe Audition che è molto più manuale, vi dà molte più possibilità e molto più professionale dal punto di vista dell'editing audio però non ha quei preset che funzionano benissimo come Adobe Premiere Pro. Quindi mettiamolo così, qualora abbiate fretta di migliorare il vostro voiceover e dobbiate fare delle cose abbastanza elementari, io personalmente vi consiglierei di creare lunga ad utilizzare Adobe Premiere Pro. Invece qualora vogliate migliorare per bene una traccia audio affinché possa essere al massimo della sua qualità, al minimo della sua compressione e magari qualora vogliate riparare il vostro audio, quindi qualora vogliate rimuovere il rumore di fondo, eco o cose simili, vi consiglio Audition. In questo caso il nostro voiceover sarà già abbastanza pulito, sarà registrato con strumentazione professionale, utilizzeremo entrambi i software e vi farò vedere semplicemente come si possa in qualche modo rendere più profonda. più nitida e più piacevole da ascoltare la propria voce con entrambi questi software. Quindi spostiamoci da computer, ma prima lanciamo la sigla. Ok, eccoci su Adobe Premiere Pro. La prima parte di questo video infatti si svolgerà all'interno di questo software e sarà molto più semplice da seguire, anche per via del fatto che Adobe Premiere Pro ci fornisce di tantissimi preset molto funzionanti che potremo sfruttare al nostro vantaggio per migliorare la qualità del nostro voiceover, per rendere la voce un po' più profonda, un po' più definita, un po' più piacevole da ascoltare. Quindi, innanzitutto, ascoltiamo la nostra traccia audio e facciamo le prime modifiche direttamente all'interno del software di montaggio, come ad esempio il taglio di questo silenzio. Vediamo qui. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi, spostiamoci da computer. Perfetto, questa è la nostra traccia audio originale. Come avete sentito c'è un po' di ronzio di fondo, la voce ha leggermente gli alti, troppo alti per l'appunto, e c'è qualche modifica da eseguire. Ok, innanzitutto, però, allarghiamo la nostra timeline in modo da poter vedere molto meglio tutto quanto. Stiamo trattando l'audio, quindi rendiamo la traccia audio bella e larga in modo da poter vedere la waveform. Utilizzando lo strumento penna, possiamo creare un fade-in per la parte iniziale del nostro audio. Cliccando con il tasto destro sul secondo punto, possiamo anche creare una curva Bézier automatica, in modo che l'audio faccia questo. Ok. E che quindi possa aumentare il suo volume in maniera molto più graduale. Dopodiché, sfruttando lo strumento lametta, andiamo a tagliare completamente questo silenzio. Eliminiamo i salti, creiamo magari una transizione, soltanto audio, non video, e anche nel punto finale creiamo un fade-out. Perfetto, quindi già la nostra traccia audio dovrebbe essere cambiata un bel po'. Ascoltiamo. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Ottimo. Direi che voglio aggiungere un po' di spazio qui, in modo che si senta di meno lo stacco, e possiamo direttamente poi partire con il vero e proprio editing audio. Quindi, per farciò, all'interno di Adobe Premiere Pro, dobbiamo cliccare sul pannellino apposito, il pannellino audio. Cliccando qui, verremo reindirizzati all'interno di un nuovo spazio di lavoro, completamente diverso rispetto al precedente, che era quello di montaggio. Teniamo la nostra waveform bella e larga in modo da poterla vedere per bene, magari scolleghiamo per ora le tracce audio e quel video, e iniziamo a lavorare su queste tracce audio. Innanzitutto, selezioniamole entrambe e andiamo a scegliere un nostro predefinito, perché, come vi ho detto prima, Adobe Audition ci permetterà di eseguire degli editing molto più personalizzati, molto più personalizzabili, invece Adobe Premiere Pro è molto più veloce e sfrutta di gran lunga, in maniera migliore, i vari preset. Quindi, visto che si tratta di un dialogo, in questo caso di un voiceover, clicchiamo su Dialogo. Qui ci sono diversi predefiniti e sono tutti molto interessanti. Quello che vi consiglio io per i vostri voiceover e all'interno dei vostri video è Voce Podcast, che a mio avviso, oltre ad essere il più bilanciato, è quello che rende la voce più nitida, più profonda e molto più ascoltabile. Voce Podcast è un preset che aggiungerà una serie di effetti direttamente al vostro voiceover e lo renderà, per l'appunto, molto più simile alla voce radiofonica, a quella da podcast, per l'appunto. Quindi clicchiamo su Voce Podcast, però andiamo a modificare qualcosina. La nostra waveform è già cambiata completamente e anche la qualità e la resa sonora sono cambiate completamente. Ascoltiamo. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare. Come avete potuto sentire, il ronzio è completamente sparito e la voce è molto più piacevole da ascoltare, però c'è qualche modifica da fare. Innanzitutto, in sonorità, qualora il software non l'abbia fatto automaticamente, vi consiglio di cliccare su Corrispondenza Automatica, in modo che l'audio possa essere ben bilanciato, normalizzato e compresso, più o meno allo stesso livello. Dopodiché, cliccando su Ripara, andiamo a rimuovere il Riduci Rimbombo, un effetto che, per l'appunto, come ci dice il software stesso, riduce le basse frequenze. Se proprio non volete rimuoverlo, semplicemente abbassate questo valore. Gli effetti che io applicherò d'ora in poi, ovviamente, cambiano anche in base al microfono che utilizzate in base alla vostra voce, quindi sentitevi liberi di personalizzare ogni cosa che andrò a toccare, anche se, in linea generale, tutti gli effetti che andrò a applicare dovrebbero funzionare anche per la vostra voce. Riduciando il Rimbombo già cambia completamente il modo in cui la nostra voce viene percepita. Ascoltiamo. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare. Ecco, è già molto, molto più profonda. Il DS possiamo tranquillamente lasciarlo, ma l'abbasserei un pochino, invece di 2,5, direi che faremo 1,5. E per quanto concerne le dinamiche, possiamo far analizzare al software il nostro audio. Le dinamiche andranno però a tagliare alcune frequenze che non ci servono all'interno del nostro voiceover. Quindi, visto che si tratta di un processo abbastanza pericoloso, io vi consiglio di fare analizzare al software le vostre dinamiche, dopodiché di abbassare un po' il valore. In questo caso ho impostato 4,3. Io sceglierò di abbassarlo fino a 2,3. Ottimizza il discorso, vi consiglio di tenerlo. E in questo caso, visto che la mia è una voce maschile, la terrò su uomo. In modo che il segnale audio venga elaborato per migliorare le voci un po' più maschili, che hanno una tonalità più maschile. Infine, qualora vogliete aggiungere un po' di riverbero, potete utilizzare il menu creativo e aggiungerlo direttamente da qui. Ora andremo ad applicare qualche altro effettino direttamente su questo voiceover. Per farciò, cliccate su questa freccettina e scegliete Mixer Tracce Audio. Ecco qui il nostro nuovo pannellino. Qui avremo le varie tracce audio della nostra sequenza. Infatti, ad esempio, andando a eliminare le tracce audio vuote, questo diventerà uno solo perché abbiamo una sola traccia audio. Da qui potremmo semplicemente equalizzare il volume. Ma c'è un menu molto nascosto all'interno di questo pannellino che ci permette di applicare degli effetti direttamente alla nostra traccia audio. Per mostrarlo basta cliccare su questa freccettina. Mostra o nascondi effetti e mandate. Eccoci qui. Questo è un menu che io adoro. Alla follia. Adesso vi mostro gli effetti che solitamente utilizzo per migliorare il voiceover dei miei video. Innanzitutto, solitamente sfrutto l'effetto speciale ottimizzatore vocale, che è più o meno la stessa cosa che vedevamo qui in chiarezza. Possiamo scegliere se migliorare le tonalità della nostra voce più femminili, quelle più maschili o quelle più legate al mondo della musica, quindi uno strumento o magari la tonalità più da cantante. In questo caso io andrò a scegliere uomo. Dopodiché, solitamente applico anche un filtro FFT. Cliccandoci due volte, questo si mostrerà a noi. Andando un po' ad ascoltare il nostro audio, vedremo direttamente qui la risposta in frequenza del nostro voiceover, direttamente al grafico. Ok, questa è una registrazione di prova. Qui quindi possiamo andare a modificare, più o meno in basso alla nostra voce, la risposta in frequenza. Quindi, visto che ad esempio io ho una voce molto alta, vado ad abbassare un po' gli alti e a creare una curva un po' più morbida per quanto concerne i medi. Applicando la curva spline avremo un grafico molto più morbido, quindi scegliete voi se utilizzarlo oppure no, in base alle vostre preferenze ovviamente. Direi che così può assolutamente funzionare. Infine, possiamo tranquillamente selezionare le nostre tracce e cliccare su guadagno audio per normalizzare il picco massimo a meno 3 dB, che è uno standard più o meno adatto per i lavori sul web. La nostra waveform cambierà per l'ultima volta e andiamo ad ascoltare l'audio e andiamo a goderci un prima e dopo di questa nostra ottimizzazione vocale. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi, spostiamoci da computer. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi, spostiamoci da computer. Come avete potuto vedere, Adobe Premiere Pro è molto legato ai suoi preset e riesce ad eseguire un buon lavoro, anzi un ottimo lavoro, in veramente pochissimo tempo. Come si comporterà invece Adobe Audition? Adobe Audition è un altro mondo, completamente. Infatti è un software che si occupa soltanto di audio, non è un tuttofare come Premiere Pro. Quindi andiamo nuovamente da computer e vediamo come utilizzare Adobe Audition per migliorare il nostro voiceover. Ed eccoci qui. Adobe Audition è molto più particolare come software, ci permette di fare molte più cose, però non ha i preset già pronti come Premiere Pro. Quindi impiegheremo anche molto più tempo e molte più competenze per riuscire a tirare fuori un buon lavoro, piuttosto che una trashata praticamente. Innanzitutto eliminiamo il silenzio, selezionandolo e premendo il tasto Canch. Dopodiché creiamo il nostro fade in e il nostro fade out, cliccando semplicemente su questi quadrettini e trascinando la nostra sequenza. Perfetto, proviamo ad ascoltare la nostra traccia, vediamo se è grezza come dovrebbe essere. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare. Direi di sì. Innanzitutto qui vediamo un grande picco. Una cosa che faccio solitamente è selezionare questi picchi e andare ad abbassarli un po' direttamente con lo strumentino volume. Il mio classico workflow su Adobe Audition è questo. Zoomiamo su una sezione in silenzio. Selezioniamo il silenzio, vediamo se è soltanto silenzio. Direi di sì. E clicchiamo su effetti, riduzione rumore o ripristino, acquisisci profilo rumore. Il software ci dirà che la selezione audio verrà utilizzata come un profilo rumore da applicare al successivo avvio di questo effetto. Dopodiché selezioniamo l'intera sequenza e andiamo su effetti, riduzione rumore ripristino, riduzione rumore elabora. Solitamente io tengo la riduzione rumore più o meno a 50% in modo da avere un effetto un po' più morbido e meno fastidioso. Quindi clicchiamo su applica e già come potete vedere il nostro silenzio si è trasformato in una linea dritta, quindi in silenzio vero e proprio, piuttosto che in del rumore di fondo. Andiamo a normalizzare l'audio selezionando di nuovo tutto e cliccando su effetti, ampiezza e compressione, normalizza, elabora. Qui per ora normalizzerò a meno 6 dB. Potrei mettere meno 3, ma utilizzeremo il meno 3 dB, normalizzando nuovamente l'audio quando avremo applicato tutti i nostri effetti. Quindi per ora stiamo a meno 6. E attenzione, mi raccomando, selezionate dB piuttosto che percentuale, altrimenti potresti incappare seri problemi. Quindi meno 6 dB applica. Ok, ci siamo. Abbiamo normalizzato la nostra traccia, adesso dobbiamo comprimerla un po'. Quindi andiamo su effetti, ampiezza e compressione, compressore multibanda. Eccolo qui. Ci sono anche qui vari preset, però solitamente già lui funziona abbastanza normalmente. Proviamo ad ascoltarlo. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi spostiamoci da computer. Andiamo a modificare un po' le nostre tonalità e il guadagno di output, ascoltando sempre la nostra traccia, in modo da poter fare degli accorgimenti direttamente in live, avendo una referenza audio piuttosto che andare un po' alla cieca. È molto meglio. Direi che così va assolutamente bene. Abbiamo ancora questo picco che mi dà tantissimo fastidio ed è per questo motivo che adesso andrò ad applicare un effetto particolare che si trova qui. Effetti, sempre ampiezza e compressione, elaborazione delle dinamiche. Qui avremo le nostre bellissime dinamiche e direi che possiamo fare una cosa simile. Vediamo. Serrazione di prova. Applica. Perfetto. Abbiamo completente distrutto il picco. Utilizzando quell'effetto, ve lo faccio rivedere, eccolo qui, possiamo semplicemente selezionare in base alla nostra tonalità la risposta in frequenza, in dB, dell'audio. Quindi semplicemente possiamo anche qui creare una curva spline per avere il tutto un po' più morbido. Semplicemente io sono andato ad abbassare quel picco dagli 0 dB ai meno 20 in modo da riuscire più o meno ad arrivare a questa altezza che è l'altezza del resto. Però potrei anche metterlo tranquillamente a meno 6 circa, visto che prima avevamo normalizzato tutto a meno 6. Quindi in realtà così dovrebbe essere ancora più corretto. Applichiamo. Ed ecco qui che è sparito il nostro picco. Adesso possiamo finalmente applicare l'equalizzatore parametrico. Si trova qui. Effetti, filtro ed ecco, equalizzatore parametrico. Nei predefiniti vi consiglio di selezionare ripristino completo e di creare un'onda di risposta in frequenza che dipende dalla vostra voce, però che potrebbe essere simile magari a quella che utilizzo solitamente io. Andiamo a fare così. Alziamo un po' qui, alziamo un po' qui e abbassiamo un po' verso il centro. Andiamo ad allarchare un po' la curva abbassando questo valore. Ok, una cosa simile più o meno per la mia voce dovrebbe funzionare. Poi ovviamente voi provate anche quella vostra. Ok, questa è una registrazione. Va abbastanza bene, però mi dà molto fastidio quel picco, quindi proviamo a rimuoverlo. Ok, questa è una registrazione. Direi che va abbastanza bene. Infine, applichiamo l'ultimo limiter, perché abbiamo praticamente finito. Andando a selezionare sempre ampiezza e compressione, normalizza. E normalizziamo sui meno 3 dB. Ed ecco qui la nostra forma d'audio finita. Qui c'è questa P che mi dà molto, molto fastidio. Non vi mentirò, provo ad abbassarlo un po'. È stato un errore di registrazione audio in presa diretta, purtroppo. Comunque, ascoltiamo il nostro audio, il nostro voiceover, prima e dopo. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi, spostiamoci da computer. Ok, questa è una registrazione di prova soltanto per testare l'editing audio con Adobe Audition o Adobe Premiere Pro. Quindi, spostiamoci da computer. Molto, molto meglio, vero? Ovviamente, ripeto, tutti gli effetti che ho applicato sono personali e funzionano con la mia voce e con il mio microfono. Già cambiando microfono o cambiando registratore, probabilmente dovrei applicare sempre gli stessi effetti. Al 99% è le probabilità, ma in maniera completamente diversa. Diciamo che come workflow questo dovrebbe andare bene più o meno per tutti i voiceover, in maniera molto elementare. Infatti, non siamo andate a rimuovere dell'eco, non siamo andate a rimuovere dei difetti dell'audio. Però, ovviamente, le impostazioni, le configurazioni che ho utilizzato io funzionano per la mia strumentazione e per la mia voce. Voi dovreste cercare di utilizzare gli stessi effetti personalizzandoli per la vostra voce, per il vostro computer, per il vostro microfono, per la vostra scheda audio e per l'impianto nel quale andrete ad ascoltare il vostro prodotto finale. Ma detto ciò, torniamo in studio e traiamo le nostre conclusioni prima di salutarci. Ed eccoci qui, alla fine di questo video. Voi, quale tra questi due software preferite? So benissimo che sono livelli completamente diversi. Adobe Audition ha un'interfaccia molto meno user-friendly e molto più complesso sotto ogni punto di vista, non ha i preset, quindi vi spingerà, vi costringerà in qualche modo ad impararlo per bene. Prima di riuscire a tirar fuori un buon edit delle vostre tracce audio, Premiere Pro è molto più basilare. Io personalmente vi consiglierei, qualora vogliate addentrarvi nel mondo dell'editing audio, della produzione audio, di imparare entrambi. Ovviamente di produzione audio per i video, stiamo parlando di questo, perché per fare musica c'è un'altra gamma, un'altra schiera di software completamente immensa e che io personalmente non conosco. Ma detto ciò, fatemi sapere qui sotto con un commentino quale tra i due software preferite, fatemi sapere se questo video dovesse esservi stato utile. Sentitevi libri di chiedermi qualunque cosa, sempre qui nei commenti, di solito rispondo a tutti, soprattutto alle domande. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre all'interno di questo mio canale, il prossimo venerdì. Qualora non siate ancora iscritti e non conosciate il mio canale, vi invito a iscrivervi. All'interno di questo canale si parla di fotografia, videomaking e roba nerd quando mi va un po' di nerdeggiare. E ogni tanto, come in questo caso, parliamo anche del mondo audio, che sto studiando un po', e quindi come al solito sto cercando di condividere le mie conoscenze e le mie competenze con voi. Ma direi di chiuderla qui, altrimenti continuerò a blaterare. Alla prossima gente, bye bye. Alla prossima gente, bye.